Con Vodafone Unlimited si attiva automaticamente anche Open 200 Voce, che ti dà 200 minuti al giorno per parlare con tutti. A un euro al giorno ha debitato alla prima chiamata della giornata, solo nei giorni in cui chiami. Puoi disattivare Open 200 Voce senza disattivare Vodafone Unlimited chiamando il 4-02-11. Ricorda che se la disattivi non potrai più riattivarla. Per parlare con i tuoi amici, in alternativa a Open 200 Voce, puoi attivare Tutti 350, per avere ogni mese 350 minuti verso tutti a 9,90€. Tutti 1000, per avere ogni mese 1000 minuti verso tutti a 19,90€. Parole più, per avere ogni mese 500 minuti verso i numeri Vodafone e chiamate illimitate al tuo numero Vodafone preferito a 10€. Attiva il pacchetto giusto per te, chiamando il 4-20-70.